Ciao, presento questo zainetto, l'ho preso su Amazon, sinceramente non so se lo terrò, però approfitto per fare una piccola recensione, lo zainetto è un 30 litri, è carino, è un bel colore, il materiale sembra buono, è un nylon spalmato direi, quindi con una minima resistenza all'acqua, il venditore viene indicato su Amazon come dodocool.it, che dire, male in Cina ovviamente, prezzo siamo attorno ai 24 euro, dovrebbe essere uno zainetto, è venduto come un zainetto tattico, che possiamo dire, dunque, è dotato di tre tasche, come il classico, tasca principale, come si può vedere, si può aprire completamente, nella tasca principale è presente una taschina di plastica, una taschina invece qua in rete, le cerniere sono piuttosto grosse e facilmente scorrevoli. Abbiamo una seconda tasca, un poco più piccola, anche qui è dotata di una taschina interna, praticamente una tasca più grossa e due taschine più piccoline. La capienza direi che è quella standard di uno zainetto di questo genere, che posso dire, le cuciture sembrano abbastanza ben fatte, non iscrite, sono qui all'interno, vediamo se riesco a far vedere, sono ricucite con un nastro, all'esterno possiamo trovare una taschina più piccola, la taschina più piccola è ricoperta con una fila di pulse molle, quindi è possibile eventualmente attaccare altre estensioni. c'è una tasca più grossa, sempre esterna, anche questa è dotata al suo interno di una taschina porta oggetti e un'ulteriore taschina porta penne, porta oggetti diciamo di genere più lungo, abbastanza capiente, anche questa, quest'ulteriore tasca è equipaggiata con i pulse molle, quindi potrebbe essere attaccate ulteriori estensioni a questa parte. è dotato di questa cinta cintura di compressione, quindi praticamente cosa abbiamo? sui lati esterni abbiamo due cinte di compressione, quindi una volta riempito lo zaino per metterlo in tensione, e questa cinta di tensione invece che fa questo giro, quindi da sotto lo zaino arriva sopra. la capienza come ho detto è 30 litri, quindi l'oggetto chiuso, ecco, abbiamo una maniglia superiore per il trasporto, qua, e praticamente questo appunto questa parte che si occupa di fare da compressione quando lo zaino è carico, quindi distribuisce il peso diciamo nella parte superiore su un vicino agli spallacci. ci sono anche sui lati due, due, praticamente vediamoli qua, quindi abbiamo uno e due pulse molle dove si possono attaccare delle estensioni, queste appunto sono le cinghie di compressione, passiamo alla parte posteriore. nella parte posteriore abbiamo gli spallacci, uno e due, che hanno diciamo la caratteristica di essere qui in alto regolabili, quindi qua e qua, non sono come i classici cuciti dentro, ma hanno questo sistema di cinghie, quindi possono essere regolati in ampiezza. è presente una chiusura pettorale, eccola qua, ed è presente una cintura ventrale, quindi eccola qua. gli spallacci hanno anche la caratteristica di avere uno sgancio rapido, quindi per eventualmente togliere lo zaino si può anche agire su queste due clip, e lo zaino si può sganciare e togliere, quindi senza doverlo sfilare, come posso dire, senza dover sfilare le braccia dagli spallacci. questa, diciamo, è una descrizione sommaria, che altro posso aggiungere, è dotato di anellini AD, per attaccare anche qui gli oggetti, lo schienale è leggermente imbottito e fatto con questa stoffa tipo mesh, è presente un'ulteriore tasca qua dietro, dove può essere infilata per esempio una sacca di idratazione, cioè quindi una riserva d'acqua, insomma oggetto, oggetti piatti, un telo di copertura, insomma quello che si vuole. principalmente comunque lo scopo sarebbe quello di inserire una riserva d'acqua, è possibile far uscire quindi la cannuccia da questa parte e poter bere direttamente da questa riserva d'acqua. Questo è, come posso dire, la visione generale. Passiamo al fatto, perché non so se lo tengo. Allora, prima di tutto, va bene, questi spallacci sono sinceramente piccolini. è vero che hanno zainetto tattico, quindi può anche darsi che possano essere fatti in questo modo per impicciare poco, per essere minimalisti e anche per il fatto che, siccome sono regolabili qua in alto, quindi e poi hanno questo sistema di sgancio rapido, quindi il classico spagliaccio che arriva fino al fondo dello zaino probabilmente non andava bene. ecco, la, diciamo, è un, non è grandissimo, non è molto molto ampio il, diciamo, lo spazio che si può utilizzare attaccando la, la, io non sono sinceramente molto robusto e quindi, vabbè, per carità, io ci sto dentro, però uno che ha un petto un po' più, diciamo, meglio del mio, cioè, sto spazio non so se basta. la cosa, però, che proprio sinceramente non va è l'ampiezza della cintura ventrale, questa proprio è una cosa da, 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 da adolescente, insomma, voglio dire, cioè, qua dentro, soprattutto se poi, per carità, cioè, se uno ci mette sotto un giubbotto, un qualche cosa, questa, questa distanza non va. non va bene, è troppo poca. Devo anche dire, sì, per carità, è tutto smontabile, nel senso che anche questa cintura si può sostituire, nel senso che ci sono delle fibbie, quindi si potrebbe sostituire, vediamo un po'. Le finiture di queste particolari cinte non sono sinceramente fatte molto bene, perché, per dire, da questa parte, vediamo se riesco a far vedere, la fibbia è, cioè, la, 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 come si dice, la stoffa è ricucita e quindi ha questa specie di, di fermo, che gli impedisce di, di passare attraverso la fibbia. Dall'altra parte, invece, praticamente questo fermo non c'è, è semplicemente tagliato a caldo e quindi questa parte è, è libera di fare quello che vuole, cioè, può sfilarsi senza problemi. Quindi, questa sarebbe dovuta essere, anche lei, ricucita, piegata, in questo modo, impedendogli di uscire dalla fibbia, quindi se uno poi la vuole sfilare, cioè, con le mani lo sfila, ma, diciamo, qualcosa che gli impedisca di, di liberarsi e di uscire senza, senza essere bloccata, forse era, era una cosa migliore. Ecco, detto questo, per carità, cioè, per, per, per una cifra così di, 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 ventitré, ventiquattro euro, e anche, 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 anche un bel oggetto, eh, io non, non, non dico niente. L'esistenza all'acqua, vabbè, lasciamo perdere, nel senso che, qualche goccia di pioggia sicuramente la tiene, eh, il, come dicevo, il, è fatto di nylon, è dentro, è, è, insomma, è spalmato, quindi, se cadono del, del, se cade dell'acqua sulla stoffa, le regge, mh, le cerniere, ovviamente no, cioè, le cerniere, non sono, eh, ricoperte, non sono protette, quindi, questo è semplice cotone, se si bagna, se si bagna, se si bagna qui l'acqua, va dentro, senza, senza, nessun problema, insomma, no, passa sotto, ecco. Eh, però, questo, vabbè, per carità, eh, si ovvia, tranquillamente, con un sacchetto, uno lo mette sopra, se piove, e, 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 ripara il contenuto, oppure, quello che sta dentro, ci pensa prima, e, lo, 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 lo protegge. La cosa, appunto, che, che trovo poco, 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 poco vestibile, ecco, è la parte, qui, degli spallacci, che per una corporatura, diciamo, minuta, può, può andar bene, Eh, ripeto, il, 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 il prezzo, non, non, c'è niente da dire. Per una corporatura, o, comunque, ripeto, se, eh, lo si vuole indossare, con, eh, un giubbetto, un, eh, o, un, o, qualcosa, insomma, diciamo anche, eh, in, in, mhm, invernale, la cosa diventa un po' più, eh, un po' più problematica. la cintura ventrale si può togliere se la si vuole utilizzare senza appunto come dicevo prima si sfila questa cinta non so ci devo pensare un attimo se lo terrò o meno perché per me questa è stretta quindi per carità potrei potrei sostituirla se trovo una cintura diciamo a metro è facile cambiarlo ecco non lo so ci penserò e si vedrà detto questo sinceramente non so se consigliarlo ecco nel senso che è un po' è un po' a scelta diciamo che con qualche euro in più tipo 4-5 euro in più si può avere qualcosa non un po' meno come posso dire tra virgolette fashion senza questi tiranti senza senza gli spallacci regolabili senza però forse più più utilizzabile più vabbè vediamo insomma ecco i commenti sono ben accetti e niente un saluto a tutti come al solito spero che possa essere di utilità per qualcuno se deve prendere una decisione per comprare qualcosa se ci sono domande grazie ciao un saluto a tutti alla prossima grazie grazie grazie